Noi eravamo due, questo è due, ma due, non potevano a portare, i blocchi si trovano autotardi, e risalivano tutto il resto del carro, però sono impressionante, noi andavamo a scendere a quello, per evitare proprio queste gallecole, per quando crollava, e poi ti risaliva per un tempo, per non parlare del riscillamento, cioè, avevo sete, mi sono ingimocchiato, però quanto l'acqua è diventa, tanto così non scendeva, io vorrei un po' entrava l'acqua. Poi mi faceva fin male vederli, quasi come ci può dire, speriamo che si mette a posto. Speriamo che lo sovi, me lo auguro, però se fa come l'anno scorso, che sembrava che sembrava, poi la finisca, tutto il cazzo, cioè, se lo farei inizio, se lo farei inverno e fanno altre state così. Ciao, tate. Ciao. Rosa. Alcubel Vaismis Draghi in orde freccio Draghi in orde freccio Draghi in orde freccio Draghi in orde leone conservatives No, cazzo non personale Me lo mi perderò C'è unelfor, vè, io c'ho maturo, io ci amHow te, non ci ho mangiato, cazzo non ci halEMmi, sono anche come me. Danilo Masio non Scaredi ... Vervania... Monte Rosso... Rago Maggiore... Lago Torta